Musica Voglio vedere prima di cominciare se potete fare al mio tre un saluto a tutti gli amici delle Country News Uno, due, tre Un saluto a tutti gli amici di l'Università Buongiorno a tutti Siamo qui per Nell'antico del progetto Finestre Che è un progetto che portiamo avanti da diversi anni Con la collaborazione di Sotto del gruppetto Dei 200 che chiamo di religione Di Napoli Non lo vedo Di Napoli De Carlo Professor Chironi A cui darei un applauso per le caratteristiche Un saluto a tutti gli amici di Napoli È un tema, come dire, l'ordine del giorno Quindi è un tema che ci può involgere tutti quanti Il mio compito è quello di fare i saluti La Bianchi mi ha dato questo compito Bene, in solito lo saluto Tele Country News che fa le riprese Che ringrazio per la tua attività 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 Oh, il saluto va alla Carruppa Al Dottor Carruppa Ma di questo poi penso ne parlerà Ne parlerà dopo A questo gruppo di Servana Caruana, Manco Buonaventura e Minicis Che sono i musicisti che oggi saranno qui sul palco Poi io ho un saluto So che mi ha raccontato che È una collaborazione nata Un po' quasi per scommessa Per scherzo diciamo Il saluto è Ernesto Bassignano Eccolo Allora Signor Cantatore Io Per quelli che hanno una certa età Mi ricordo che Anni 70 Il Bassicato Al Colto Studio C'era Bassignano Venditti E De Gregori C'erano tre Diciamo cantatori Quattro Esatto Quindi il gruppo era quello lì Ecco Mi sono ricordato che fino a qualche anno fa Fino a quando c'è stata la trasmissione Alle due e mezza L'appuntamento era Ho perso il freno sulla radio Sento la radio in macchina Per cui Era esattamente l'ora di ritorno a casa E ho perso il prendere La trasmissione radiofonica Insomma Importante Quindi ringrazio per la sua presenza qui Ho saluto La Cicar Eccola Dottoressa Borgiacchi E Ducci Che appunto hanno Collaborato E con cui noi collaboriamo Per tanti anni E Don Capriere Dannibale Eccolo lì Dottoressa Borgiacchi Dottoressa Borgiacchi Allora Innanzitutto Grazie per averci invitato Un complimento Per la vostra scuola Che veramente Al preside Agli insegnanti E a voi tutti ragazzi Allora vi invito Ad essere un pochino curiosi E a farvi una domanda Che faccio sempre Chiedetevi sempre Quale merito ho avuto io Per essere nati da questa parte del mondo È un compito Che vi lascio Cioè Noi tutti Quale merito abbiamo avuto Per essere nati da questa parte del mondo Veramente E E un'altra E un'altra cosa Voi Chiedi genzano Va alla coppia Alla coppia c'è un ragazzo Nigeriano Io mi sono avvicinata Gli ho detto Come ti chiami E lui mi ha risposto Sei la prima persona Che mi chiede come mi chiamo E non da dove vengo Quindi Quando incontrate una persona Chiedetemi Come si chiama Perché prima di tutto È una persona Poi può essere Nigeriano Io comunque Vi ringrazio infinitamente E vi faccio Tanti complimenti Grazie a te Allora A me hanno presentato Come direttore di Caritas Ma più che altro Come direbbe Anna Maria Robibero Sono ex alunno Del Joyce Quindi fondamentalmente Però Era ancora socio Psicopedagogico Ho fatto Scienze umane Chiero di essere A Valerizza Quindi Semplicemente Ricordo Quando con La Proparo Bibaro Ci teneva Lunghi Discorsi E io dico Ma che ci servono Tutte queste cose E invece Quegli incontri Quelle lezioni Perché poi di fatto Non erano lezioni Ci hanno aperto Tante finestre Ci hanno aperto Tanti link Per poi Veramente Affrontare Con la cultura E soprattutto Con l'umanità Tutte quelle cose Che poi Il socio Psicopedagogico Scienze umane Oggi Ci ha fornito E ci ha dato Quindi Abbiamo semplicemente Delle finestre Perché come diceva La signora È più facile Mettere dei muri Anziché creare Dei ponti Quindi sia questo Un po' L'invito Per la giornata Credo che Tante parole Siano già state Siete dette Qualcuno mi ha chiesto Anche questa mattina Com'è nata L'idea Di questo Di questo progetto Un progetto Spesso è Una sorta di Piccolo seme Un'idea Che però Ha bisogno Di tanti elementi Per poter crescere Per poter germogliare Era molto tempo Che Pensavo A un tema Appunto Come quello Dell'accoglienza Così attuale Così Così drammatico Tornato nella mia memoria Qualche reminiscenza Universitaria Approfondimenti Sulle migrazioni Sulle nostre migrazioni Quelle soprattutto Avvenute Nei primi anni Del novecento E quindi Così casualmente Poi Questo incontro Con Salvatore La Carruba Ha alimentato Questo Questo seme Questa idea E questa idea È cresciuta Sempre di più Fino a diventare Quello che è oggi Ma un'idea Un progetto Non sarebbe nulla Senza Altri componenti In questo caso Colleghi Amici Che hanno Lavorato Molto attivamente Con i ragazzi Che sono il vero Cuore Di questo progetto E che vedrete Questa mattina Daranno prova Di tutte quelle che sono state Le loro Emozioni Su argomenti Che magari Erano a loro Anche Sconosciuti O comunque Non particolarmente Approfonditi E poi Tutto questo Mancava Appunto Una colonna sonora Una cornice Che potesse Racchiudere Quello che è il tema Dell'accoglienza Senza però Cadere nel buonismo Falcone diceva Il pulso Della ritorica Ecco Senza farne Della ritorica Ma parlarne Raccontare La storia Nostra La nostra storia Di quando eravamo noi Viaggiatori In cammino Che cercavamo Come recita Una canzone S.I.L.I.L.I.L.I.L.D. Un nome E un talento E di quella che è La migrazione Di oggi Quindi Il progetto È proprio Gli altri Siamo noi Raccontiamo La nostra storia Con una finestra Però aperta Sull'attualità E sull'oggi E sul presente Io direi Di iniziare Perché Credo che Le parole Le parole restano parole Altrimenti E inizierai subito Con Presentarvi Quelli che saranno I presentatori Di questa Mattinata Perché I protagonisti Sono due I ragazzi E la musica Perdonerete Se ci sarà Qualche Incertezza Tecnica Ma siamo un auditorio Ma siamo una scuola Quindi So che ci perdonerete Ringrazio ancora Filippo Bernoni Con Telecountry Unione Che ci dà questa Possibilità Allora Questa mattina I nostri ragazzi Io non li chiamo Io non li chiamo mai studenti Ma i nostri ragazzi Saranno chiamati Per nome I cognomi Li lasciamo Nei banchi di scuola Allora I presentatori Saranno Federica Valentina Ilaria E Gianluigi E proprio Federica Invito a salire Sul palco Che presenterà La prima Coltura Buongiorno a tutti Buongiorno Allora Abbiamo questo Meraviglioso evento Con due ragazze Due alunni Del 4SB Che presenteranno Un testo Dal loro scritto Aiutate Dalla loro classe Sono Alessia E Angelica Subito dopo Seguirà Una coreografia Creata Da altri tre ragazzi Del 4SB Roberto Eleonora E Chiara Il lavoro svolto in classe Sul tema delle immigrazioni Ci ha emozionato In quanto ci siamo sentite Protagoniste Di un progetto Di sensibilizzazione Riguardo un tema Dalla costata globale Il lavoro che andremo a presentare È un mosaico Nel quale ogni colore Risette le varie Spacettature Che ci caratterizzano In quanto alunni Del 4SB Abbiamo dato Ispirazione Dalla lettura Di storie di migranti E abbiamo tradotto L'esperienza Di rifugiati In danza Per esprimere al meglio I sentimenti Da noi provati Davanti A questo dramma umano Oltre alla performance Abbiamo prodotto Due brami di testimonianze E una poesia Per dare voce Alla sottraenza Ero lì Su quel barcone In mezzo al mare Senza sapere Se mi stesse portando Ad una nuova vita Una nuova vita Lontano dal mio paese Un paese In cui negli ultimi anni Le lotte Le persecuzioni E le violenze Erano all'ordine del giorno Se volevo continuare a vivere Dovevo scappare Andarmene altrove Lo feci Me ne andai E sali In quel barcone Anche se non fu facile Appena fui lontana dal mio paese Sentì qualcosa di nuovo Nascere in me Sentivo di poter continuare A combattere Iniziai a rinascere Iniziai ad avere fiducia Nel futuro Non è facile Lasciare tutto indietro E scappare Lontano da casa In un posto sconosciuto Senza niente da amare Da sola Presi il coraggio E senza richiedere aiuto Me ne andai Dal lontano Da quella Che sembrava essere L'unica possibilità Chissà se mi salverà qualcuno Nella di là Non ero sicura Di poter resistere al dolore Perdevo la speranza Ma aumentavo il timore Applausi Applausi Perdevo la speranza Perdevo la speranza Perdevo la speranza Perdivo la speranza No Oh Oh Down to Oh Grazie. 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 Grazie.